Il carcere di Solicciano come prima tappa di un percorso portato avanti dalla Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Toscana in programma visite anche agli altri istituti di pena per conoscere da vicino la realtà carceraria. L'obiettivo è quello di capire il reale stato degli istituti penitenziari e l'obiettivo è anche quello di arrivare ad elaborare e a portare all'attenzione di tutto il Consiglio regionale una proposta di risoluzione che consenta alla Regione Toscana di fare la propria parte e di poter contribuire al miglioramento della realtà detentiva di tutto il territorio regionale. È chiaro che gli istituti penitenziari non dipendono se non marginalmente dal ruolo della Regione Toscana, però ci sono alcuni aspetti nei quali si può misurare in maniera effettiva e il contributo che la Regione può apportare a queste realtà. Penso principalmente al tema della tutela della salute e al tema della formazione, quindi la nostra volontà è quella di fare emergere le problematiche che sono all'interno di questi istituti. Solicciano è il carcere più importante della Regione Toscana, il più popolato, ci sono problemi ormai da lungo periodo di carattere strutturale, fortunatamente è rientrato il tema del sovraffollamento che ha caratterizzato per tanti anni questa struttura, ma ci sono problemi che riguardano la quotidianità dei detenuti, il modo in cui vivono, il modo in cui interagiscono all'interno dell'istituto e anche il personale penitenziario che deve avere un'adeguata formazione, deve essere sufficientemente supportato. Io spero che tutto quello che oggi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e ascoltare in prima persona possa tradursi al più presto in fatti concreti. Quale impressione della visita di oggi? È stata una visita impegnativa che mi ha fatto molto riflettere, innanzitutto sapere come anche questa notte vi sia stata un'aggressione qui dentro, quindi il tema della vigilanza e del personale che opera all'interno del carcere Solicciano e poi venire a sapere che praticamente da quando il carcere è stato costruito, soltanto negli ultimi anni, dal 2020 in poi, si è cominciato a fare qualche lavoro strutturale. Rendiamoci conto in che situazione è versa il carcere di Solicciano. Abbiamo visto delle infiltrazioni d'acqua piovana cadere, le tracce addirittura sopra degli impianti elettrici. C'è veramente situazioni molto negative, siamo entrati nelle carceri dei detenuti, abbiamo visto in che condizioni vivono, ma ripeto, il mondo carcerario deve essere visto veramente a 360 gradi, deve essere visto tutto il mondo carcerario, i detenuti ma anche le guardie carcerarie. Ci deve essere un impegno naturalmente per la formazione, per il lavoro, ci deve essere l'assistenza sanitaria nel suo complesso, così come deve essere garantita fisica e psicologica. Ci deve essere l'impegno delle istituzioni perché vi sia un'attenzione per questo mondo nella sua complessità e nella sua interezza. L'obiettivo della Commissione è, entro fine anno, arrivare ad una risoluzione nella quale si chiede da una parte impegno al Governo e Parlamento per le misure di loro competenza, dall'altra alla Regione un forte impegno su temi quale, ad esempio, la formazione, un aspetto sottolineato anche dalle garanti dei diritti dei detenuti della Toscana, che ha accompagnato i consiglieri durante la visita a Sollicciano. Intanto vorrei ringraziare il Presidente Bugliani e la Prima Commissione della Regione per questa lodevole iniziativa. Visitare il carcere è un obbligo per tutti coloro che si occupano di cosa pubblica, perché serva a comprendere una parte di quella società che bene o male è figlia di questa società, che pur avendo sbagliato in questa società ci deve essere reinserita. Oggi ho avuto una impressione molto positiva di un carcere impegnato ad affrontare i problemi veri. Abbiamo avuto colloqui con i detenuti, con il personale, abbiamo visto cose che io già conoscevo ma che i consiglieri molto spesso non conoscono. La visita è stata particolarmente istruttiva, soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. Questo è un compito nel quale la Regione può molto, perché ha dei compiti che le sono propri, oltre quelli che sono propri dell'amministrazione centrale. E' per questo che io ho apprezzato tantissimo l'iniziativa che la prima commissione ha voluto. Oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male, non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina. E credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza, essere vicini al popolo ucraino e lo stiamo facendo con quello che possiamo, sostenendo l'arrivo di tante donne, di tanti bimbi, di tanti bimbe. Io sono stato qualche giorno fa in una scuola di Pisa ad incontrare due bimbe di otto e nove anni, terza e quarta elementare. Vi assicuro che mi si accaponava la pelle, non sapevano parlare l'italiano, hanno detto solo basta guerra. E poi la traduttrice, gli ho chiesto cosa dicevano le bimbe, mi ha detto hanno voglia di rivedere il loro papà, il papà che è rimasto in guerra a combattere per la libertà del suo popolo. Da un lato i giovani ucraini in Italia che portano il loro carico di dolore, dall'altro i ragazzi italiani che assistono ai momenti drammatici della guerra. Se ne è parlato all'interno dell'incontro organizzato dal Consiglio regionale della Toscana con il Parlamento degli studenti, ospiti i docenti di relazioni internazionali. Non è un periodo facile per essere ragazzi, però penso che comunque questi ragazzi, specialmente vedendo i ragazzi che abbiamo nel Parlamento degli studenti, siano anche ragazzi che si prenderanno poi la loro vita adulta, che non hanno potuto vivere nella giovinezza. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. È così alla generazione dei cittadini e delle cittadine più giovani abbiamo chiesto grandi sacrifici per la pandemia, per affrontare i lockdown e tutti i provvedimenti e adesso gli proponiamo uno scenario di guerra. Dico noi lì perché abbiamo lasciato loro, tutti quanti noi adulti, un mondo violento, diviso, insufficiente per molti versi e dobbiamo riconoscerlo. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile davvero che si può fare. Per questo è un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi. Dal forum non arrivano soltanto gli strumenti utili per decodificare i fenomeni, si è parlato anche degli effetti della guerra in Italia e in Toscana. Per la Toscana sono le sfide dell'Italia, direi, nel senso che ricerchiamo tutti una pace, ricerchiamo stabilità e gli effetti che ci possono essere sono in questo momento flussi migratori, quindi profughi in arrivo anche in Toscana, che si dimostra ancora una volta a terra di accoglienza e ci sono ad attendersi poi gli effetti economici a partire dalle materie prime, ma effetti economici anche per quanto riguarda prodotti agricoli, perché noi importiamo fertilizzanti, per esempio, dall'Ucraina, senza poi parlare della questione del gas e dell'energia. Via libera al bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscano, lo che arriva a maggioranza 20 voti favorevoli, 16 contrari, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale. La Presidente della Commissione Cultura ne illustra i dettagli e il ruolo della Fondazione. Sì, un'approvazione un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è la prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quella settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale e il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. Le opposizioni votano o no, innanzitutto per il forte ritardo con cui l'atto arriva in consiglio. Il nostro voto è stato negativo, infatti è emblematico che oggi marzo 2022 si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio. Diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana, qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Obiettivi non raggiunti secondo Fratelli d'Italia. Toscana Promozione è un ente pagato profumatamente dalla regione toscana che si occupa di promuovere il turismo per quanto la regione toscana. È paragonabile al ministro del petrolio per i paesi arabi perché evidentemente il nostro petrolio è il turismo. Noi abbiamo un giacimento petrolifero non in ogni città, non in ogni comune ma in ogni borgo, in ogni piazza. Ecco, pensiamo che Toscana Promozione faccia molto male il proprio lavoro che ci sarebbe da poter avere un intervento molto più efficace, molto più importante per questo abbiamo votato convintamente contro a quel bilancio così come abbiamo votato contro il bilancio dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego ma soprattutto noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Oggi in aula è venuto il bilancio di Toscana Promozione, quindi del ministero del petrolio per quanto riguarda la nostra regione e dell'agenzia che si occupa di impiego in un momento in cui il problema più grave che si chiede a un bambino di quinto elementare o a un pensionato è il lavoro. Ecco, non possono passare così in maniera superficiale dal Consiglio regionale senza un dibattito importante, senza una riflessione importante sul ruolo di queste due entità. C'è anche il tema della governance fra le critiche avanzate dalle forze di centro-destra. In realtà ci stiamo tutti quanti interrogando su quelle che sono appunto le prospettive anche e soprattutto direi le capacità di governance di queste situazioni. Noi abbiamo detto anche ieri nella scorsa seduta, da un lato si interviene come dire a voler cumulare anche compense e le cariche, dall'altro però non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali. Se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica, come dire, di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone, questa è una logica che noi non possiamo accettare. C'è un grande lavoro da fare, che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione. E le opposizioni chiedono di fare chiarezza sull'incarico di consulenza affidato all'ex direttore, incarico poi nel frattempo revocato. Per il Movimento 5 Stelle c'è una sovrapposizione di ruoli e incarichi. Questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente, però le risorse che impiegano sono ingenti. Si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra. La fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla regione toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica, quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!